Il 20 dicembre di cento anni fa nasceva Remo Righetti che poi diventerà ufficiale dei paracadutisti della Folgore e morirà da eroe in guerra nella lontana Tunisia nel 1943. Al tenente Righetti è stato intitolato l'Istituto di Istruzione Superiore di Melfi per tecnici e professionali. A scuola su iniziativa dell'Associazione Arma Aeronautica, una commemorazione importante con relativa scopertura di targa. Ma chi era Righetti? Ce lo racconta uno degli organizzatori di questa giornata. Dunque, il tenente Remo Righetti era un ufficiale dei paracadutisti della Folgore che durante il secondo conflitto mondiale si è distinto particolarmente in una famosissima battaglia sulla terra di Tunisia nel momento in cui l'Italia lasciava la sua colonia nordafricana. Lui si imolò nell'ultimo combattimento per permettere alle truppe italiane di poter rimpatriare la nostra nazionale. Righetti, un eroe per l'arma aeronautica, come ci conferma il Presidente Lorusso. Un eroe importante, certamente, ed è questa la ragione per cui oggi noi siamo qui per commemorare questo degno cittadino della nostra città di Melfi. Dopo l'inno nazionale eseguito dagli studenti e la scopertura della targa all'ingresso, ci si è trasferiti nell'aula magna della scuola. Il Presidente Lorusso scongiura ogni conflitto. L'augurio è questo, cioè l'Europa deve crescere e deve crescere in pace. La Seconda Guerra Mondiale ci deve indicare che la guerra deve essere eliminata a qualsiasi livello. I morti all'Uro sono stati quasi 50 milioni. Per la famiglia di Righetti erano presenti, commosse, la nipote diretta Maria Morante e le pronipoti Ida Capitelli con Tania Lasala. Ascolchiamo proprio la nipote Lasala che in Aula Magna ha letto una lettera toccante.